L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Con una serie di reazioni intorno a quest'ultima inchiesta della procura distrettuale antimafia che parla più che di criminalità organizzata di una presunta cupola, una sorta di comitato d'affari tra politici, imprenditori e professionisti. E tra i politici che hanno ricevuto questo avviso di conclusione di indagini ci sono, li avete appena visti, il governatore della Calabria Mario Oliverio e l'attuale sindaco di Cosenza Mario Chiuto, tra l'altro entrambi potenziali competitor alle prossime elezioni regionali. C'è anche l'ex vicepresidente della giunta regionale Nicola Damo e insieme a tutti e tre altre 17 persone che sono state raggiunte da questo avviso di conclusione delle indagini. I reati contestati sono associazione a delinquere, frode nelle pubbliche forniture, turbative d'asta e come sempre non manca in questi casi chiaramente la corruzione. Gli avvisi sono stati notificati ieri mattina dai militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro e dai carabinieri per la tutela dell'ambiente. A lavorare per accaparrarsi soprattutto la realizzazione di due opere importanti, ne vedete una nella fase di presentazione, cioè la metro leggera, l'altra invece riguarda il nuovo ospedale di Cosenza. Fin qui chiaramente questa indagine e soprattutto l'avviso conclusione, ma che cosa hanno detto, che cosa pensano i protagonisti in negativo di questa inchiesta? Mario Chiuto si è detto tranquillo, dice io ho sempre lavorato per il bene della mia città, ma noi facciamo un passo indietro perché abbiamo sentito anche Nicola Gratteri. Sentiamo cosa ha detto. Questa indagine riguarda più appalti, più opere pubbliche che vanno dalla metropolitana Cosenza-Rende, che è il trenino della Sila, il museo di Alarico. Sono tutte opere pubbliche delle quali abbiamo studiato tutta la loro procedura, abbiamo fatto delle intercettazioni telefoniche, abbiamo ascoltato delle persone. Tutto questo risultato probatorio messo assieme ci ha determinato a contestare la corruzione, il traffico di influenza, a contestare l'associazione a delinquere. Riteniamo che ci siano abbastanza elementi per poter andare tranquillamente a giudizio. Ad esempio il Presidente della Giunta regionale non aveva l'assenso da parte del Sindaco di Cosenza per la costruzione della metropolitana del Gera. Si accorge Oliverio che per la costruzione del museo di Alarico il comune non aveva né la disponibilità del suolo né la copertura finanziaria. E allora dice io faccio finta di non accorgermi del museo di Alarico, tu però in cambio firmi. Questo chiaramente Nicola Gratteri, ci sono ovviamente le reazioni dei principali protagonisti di questa visoconclusione. Indagini anche il Sindaco ha già espresso che io ho sempre lavorato in funzione del mio comune e per gli interessi assolutamente legittimi del comune di Cosenza e fra l'altro ha chiesto anche di essere subito, immediatamente sentito appunto dalla magistratura. Mario Oliveri invece ha rilasciato questa dichiarazione. Dimostreremo anche in questa vicenda, come si è verificato per altre, la nostra assoluta estraneità ai fatti contestati. Sono piuttosto preoccupato dell'immagine che si proietta della mia terra, della Calabria. Tra l'altro si contestano vicende che non sono nemmeno riconducibili alla mia esperienza di governo, per esempio la metropolitana di Cosenza. La gara per questa importante opera è stata fatta prima che io arrivassi a governare la regione, nel settembre del 2014, così come per altre vicende che sono di natura meramente politico-amministrativa, che nulla hanno a che fare con attività di carattere penale. Noi abbiamo sempre lavorato con la bussola della legalità, anzi io rivendico una forte azione di bonifica della regione e di tutti gli enti che hanno gravitato e gravitano intorno alla regione. Tra l'altro questa indagine che si conclude nel 2019 è iniziata a dicembre 2014, guarda caso il giorno in cui io mi sono insediato alla guida della regione. Anche questo naturalmente mi fa riflettere. Non nego amarezza perché ci si trova col mondo capovolto, il nostro impegno è stato sempre animato e guidato dalla bussola della legalità, del bene comune. Lo rivendico con grande determinazione questo, mi batterò in tutte le sedi a partire da quella del processo perché si affermi la giustizia e sono fiducioso, come è stato in altre vicende, che c'è un giudice a Berlino che saprà far emergere la verità. Fin qui dunque l'inchiesta, ma poi c'è tutta la partita che riguarda la sanità, il famoso decreto Calabria. Insomma sono stati individuati i dirigenti che saranno chiamati anzi a svolgere le funzioni provvisorie di reggenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere in base appunto alle disposizioni di questo decreto sulla sanità varato dal Consiglio dei Ministri. Si tratta di Amalia De Luca per l'ASP di Catanzaro, Sergio Diego per l'ASP di Cosenza, poi ancora Maria Pompea Bernardi per l'ASP di Crotone, Elisabetta Tripodi per l'ASP di Vibo, Adelaide Marsico per l'azienda ospedaliera di Cosenza, Francesco Araniti per il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio, Giuseppe Giuliano per il Policlinico Universitario Mater Domini. La struttura commissariale, vedete peraltro immagini di repertorio, in questo momento inquadrati sia Cotticelli che il suo sub Thomas Schell, dovrà adesso concertare la nomina dei nuovi direttori generali con la Presidenza della Regione. Il commissario Cotticelli e il suo sub Thomas Schell, li vedete ancora, hanno chiesto un incontro al Presidente della Regione Mario Oliverio proprio per trovare un'intesa. Esiste, dice ancora Saverio Cotticelli, il rischio concreto che possa essere vanificata una anticipazione di liquidità di 153 milioni che è stata richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti proprio dall'ufficio del commissario, ma anche dal Dipartimento Salute della Regione. C'è infatti la possibilità che questa somma, ricordo, ribadisco, sottolineo 153 milioni, possa bypassare la destinazione originaria per essere bloccata dalla BNL che, come sapete, gestisce il servizio di tesoreria di diverse aziende del Servizio Sanitario Regionale. La BNL, l'Istituto di Credito, ha comunicato infatti che queste somme potrebbero essere pignorate. Il pubblico va tutelato in tutti i suoi aspetti, dice Saverio Cotticelli, da quello organizzativo a quello finanziario, per cui non è possibile e non deve essere possibile aggredire somme faticosamente ottenute a basso tasso di interesse e destinate evidentemente ad alleviare le sofferenze del sistema sanitario calabrese. I contenziosi, pensate, sono arrivati ad incidere sul bilancio sanitario per circa 100 milioni nel 2017 e per circa 60 milioni nel 2018. Insomma, una vera e propria mazzata per la sanità regionale, ma anche, diciamolo fino in fondo, per tutti noi cittadini calabresi che a causa di questo disavanzo pagheremo più tasse sulle addizionali, sia addizionali alle imprese, e questo ovviamente lo pagheranno gli imprenditori calabresi, che le addizionali ai cittadini e questo lo pagheremo tutti noi. Oltre che, ribadiamolo anche, perché tutte queste somme, tutte queste difficoltà di natura finanziaria significano essenzialmente anche il blocco del turnover, quindi l'impossibilità di assumere medici, infermieri e dos. E a questo proposito, i problemi sempre legati alla sanità sono al centro anche della nostra attenzione, perché adesso in fibrillazione entrano anche gli ordini professionali degli infermieri. Questo sistema rischia di collassare proprio a causa dell'emergenza in termini di organici. Un problema che riguarda tutte e cinque le province, in particolare quella di Catanzaro. Il servizio. Non ci stanno più gli infermieri professionali calabresi a sopportare lo stress lavorativo a cui sono sottoposti nelle strutture ospedaliere pubbliche a causa della carenza di organici che stravolgono i parametri nel rapporto pazienti assistiti. Gli ordini professionali delle province hanno chiesto al coordinamento regionale una decisa presa di posizione nei confronti sia della struttura commissariale sia della regione. E il coordinamento ha subito attivato una sua precisa strategia per mettere la situazione con tutte le sue criticità all'attenzione del commissario ad acta Saverio Cotticelli. E a rischio blocco l'attività in tante strutture sanitarie della regione dove si legge in una nota del coordinamento l'emergenza degli organici infermieristici e del personale di supporto pregiudica ulteriormente la qualità dell'assistenza la sicurezza dei cittadini e degli stessi operatori. Il sistema sanitario calabrese è preda di preoccupanti malesseri che per essere debellati richiedono interventi urgenti che dovrebbero andare bene oltre il recente decreto Calabria. Le situazioni di criticità che investono la importante categoria infermieristica merita una particolare attenzione e soprattutto urgente perché con l'arrivo della stagione estiva i tanti ospedali rischiano di scoppiare. E quella di Catanzaro capoluogo di regione è la più sofferente. Gli ordini professionali calabresi hanno infatti evidenziato anche che la situazione rischia il default completo nella quasi totalità delle aziende sanitarie dove la carenza di personale ha già determinato una forte riduzione delle prestazioni e costringe i pochi professionisti in servizio a turni di lavoro doppi o tripli orari massacranti e continui richiami in servizio oltre ad un demanzionamento continuo della propria professione. Nel ribadire che le condizioni di lavoro sono inaccettabili gli ordini professionali hanno chiesto azioni immediate per rafforzare gli organici infermieristici e del personale di supporto e tutelare gli operatori dai notevoli rischi professionali connessi alle difficili condizioni di lavoro attuali non più sopportabili e che violano diritti inalienabili come quello ad un adeguato riposo. Adesso ce ne andiamo a decollatura in provincia di Catanzaro perché il direttore dell'ufficio postale Riccardo Cristiano di 41 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato di La Mezzia Terme con l'accusa di truffa e peculato. L'indagine della Procura di La Mezzia Terme ha accertato l'esistenza di un sistema fraudolento che ha permesso al direttore dell'ufficio postale di appropriarsi di somme di denaro da più clienti per circa 132 mila euro. L'uomo avrebbe agito approfittandosi della buona fede dei clienti al punto da poter disporre varie operazioni sui loro conti correnti e prodotti di investimento. Gli elementi a carico di Cristiano nei confronti del quale è scattato anche un provvedimento di sequestro sono stati raccolti con accertamenti ed anche intercettazioni telefoniche. Credo vi piaccia l'anduia, vero? A me tantissimo. Adesso insomma corriamo il rischio di mangiare l'anduia, pensate un po' dello Yorkshire. Ovviamente i produttori di Spilinga e soprattutto in questo momento la Col di Retti Calabria non ci stanno e dunque lanciano l'allarme contro falsificazioni ed eco-mafie. Il nostro servizio. La notizia che l'anduia viene prodotta in Inghilterra nella contea dello Yorkshire è sicuramente scindigna ma non ci sorprende poiché è da anni che nei rapporti sulle agro-mafie nelle battaglie quotidiane mettendoci la faccia denunciamo che oggi l'Italia esporta circa 42 miliardi di euro di cibo e nel mondo il falso cibo italiano vale circa 100 miliardi di cui quello calabrese vale circa 1,6 miliardi. E quanto afferma il direttore di Col di Retti Calabria Francesco Cosentini in merito all'articolo pubblicato da Ilvi Bonese sul caso dell'azienda inglese che produce e commercializza la Yorkshire in Duia aggiungendo dobbiamo operare su due fronti il primo accelerare il riconoscimento dell'IGP in Duia di Spilinga e poi come stiamo già facendo in interrotta in più in generale continuare la raccolta delle firme per la petizione rivolta alla commissione europea denominata Stop al cibo anonimo Hit Original Scegli l'originale La petizione procede che Cosentini chiede di estendere a livello europeo l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti L'indicazione di origine permette di contrastare le imitazioni consente di prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali che danneggiano la nostra economia la forza la lotta alle agromafie e la difesa contro le grandi multinazionali del cibo che hanno interesse ad occultare l'origine degli ingredienti agricoli Anche Franco Aceto presidente di Col di Retti Calabria si schiera a difesa del prodotto made in Calabria Non ci stiamo a subire questo ulteriore attacco da una nostra produzione d'eccellenza che punta a colpire gli alimenti e il futuro dei nostri prodotti frutto di tradizioni plurisecolari trasmesse da generazioni di agricoltori che si impegnano quotidianamente con sapienza e dedizione a mantenere le caratteristiche inalterate nel tempo Quindi giù le mani dall'anduglia di Spilinga Tutto questo non accadrebbe se l'Unione Europea fosse obbligatorio indicare in etichetta l'origine degli ingredienti del cibo di tutti i prodotti dell'agroalimentare a tutela dei cittadini consumatori che potrebbero effettuare acquisti più consapevoli ma anche a tutela delle imprese agricole ed agroalimentari virtuose Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento per un periodo di 18 mesi del Consiglio Comunale di Stilo su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Salvini tenuto conto che sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che espongono l'Assemblea Municipale a compromissioni del buon andamento dell'attività amministrativa La gestione è stata affidata a una commissione straordinaria Parliamo dell'ambiente l'ambiente a Crotone qual è la reale situazione la domanda ovviamente che da diversi decenni ormai aspetta risposte intanto perché per cento anni c'è stata ovviamente l'industria chimica pesante e comunque CNR ed Arpagal hanno avviato da qualche anno uno studio uno studio importante attraverso un progetto che si chiama CISAS sono stati presentati alcuni elementi Si chiama CISAS sta per Centro Internazionale di Studi Avanzati sull'Ambiente si occupa di indagini appunto ambientali è un progetto che si sta conducendo in Italia in tre aree SIN vale a dire siti di interesse nazionale tra cui appunto quello di Crotone interessato e caratterizzato come è noto ai più da 70 anni di chimica pesante e per quanto riguarda faccio degli esempi per quanto riguarda il comparto aria almeno le prime indicazioni che noi abbiamo ecco ripeto sono dati preliminari e sono dati che noi continueremo ad approfondire nel prossimo anno e mezzo di lavoro per quanto riguarda il comparto aria sembra che in effetti le concentrazioni i valori di concentrazione dei contaminanti siano rispettino i valori della norma vigente abbiamo trovato dei ma questo era già noto valori di concentrazione di contaminanti nei sedimenti a mare rilevanti ma questo ripeto era già un qualcosa che Ispra nel 2006 aveva identificato quello che noi abbiamo fatto è un'indagine approfondita su quelli che possono essere i meccanismi di trasferimento di questi contaminanti per esempio sul comparto della pesca sui pesci che arrivano sul tavolo del consumatore anche qua devo dire per quanto siano preliminari i risultati noi faremo una seconda campagna di misure però i dati sono confortanti rispetto a tante altre situazioni in cui in realtà le situazioni sono molto più complicate qua è iniziata in qualche modo una sorta di operazione bonifica ha sentito parlare? Sì certo noi in una qualche misura stiamo seguendo quello che è il processo che ha portato a questi due disegni di bonifica nell'area di Cortone ripeto ognuno deve fare il suo lavoro noi facciamo il lavoro da scienziati cerchiamo di comprendere in profondità quali sono i fenomeni di impatto reale dei contaminanti in tutte le diverse matrici ambientali e offriamo quindi il nostro contributo per cui poi altri a cominciare dal decisore politico alle agenzie sul territorio con cui stiamo lavorando in maniera seria ARPA ASPE e con cui la collaborazione risulta veramente efficace ecco possono prendere le loro decisioni e possono portare avanti il loro lavoro specifico il progetto gode di diverse collaborazioni di natura e di taglio scientifico tra cui quella di ARPA che ha l'agenzia regionale per l'ambiente com'è la qualità dell'aria la qualità dell'aria ovviamente ci si riferisce al decreto legislativo 155 i limiti che sono previsti dal decreto legislativo 155 i valori degli inquinanti rispettano i valori limiti imposti dalla normativa il progetto del CNR ha visto quindi un confronto tra i dati di speciazione del particolato quindi PM10 e PM25 con i dati che abbiamo rilevato noi sia con la rete di monitoraggio sia attraverso studi specifici nell'area SIN Crotone quindi è ovviamente insomma un progetto che tende a una bonifica complessiva di tutto il territorio ma poi è anche un centro storico bellissimo dove nei giorni scorsi per esempio si è tenuto un evento molto interessante tra l'altro anche molto saporito che si chiama Scorci di vino una giornata a mare solo e con mille di tre sono venuto a guardare questa quella gente che c'è e il sogno che è più più forte ti fa suono del mondo cos'è organizzare una serie di degustazioni di vini a Crotone città a cavallo delle tre più antiche doc di Calabria Sant'Anna Ciro e Melissa con la finalità di promuovere attraverso un percorso a tappe la qualità dei prodotti del territorio ma anche per rilanciare e valorizzare le location del centro storico da tempo che stiamo lavorando con queste iniziative noi abbiamo la necessità comunque di promuovere il nostro prodotto perché è un prodotto di qualità che è riconosciuto a livello nazionale e quindi noi in virtù del fatto che abbiamo questi locali dove è frequentato da molti giovani noi stiamo investendo tantissimo su questi prodotti abbiamo ancora altre iniziative da fare con altre cantine perché le cinque cantine che stasera sono De Mare Iuzzolini Marrelli Russo e Longo e Librandi non completano le nostre eccellenze e quindi è naturale che noi cercheremo di fare il più possibile per promuovere anche con le altre cantine altre iniziative ci teniamo tanto per farlo diciamo nello scorcio quello che è più bello della città di Crotone che è il centro storico nei luoghi abitualmente frequentati dai giovani per il conviviale rito dell'aperitivo mutevoli negli anni gusti e le proposte presentate dai barman di certo oggi i numeri testimoniano un netto ritorno alla riscoperta e al gradimento di una bevanda tanto antica quanto sana il vino sempre di più i giovani e anche diciamo naturalmente da 18 anni in su si avvicinano al mondo del vino e noi siamo presenti con la Marelli Wines per divulgare per promuovere questa cultura diciamo anche ai giovani per far conoscere questo mondo fantastico favoloso insomma che ruota intorno al vino c'è sia il consumatore consapevole tra i giovani sia il consumatore consapevole tra gli adulti lì subentra un fatto di gusto c'è chi preferisce i vini più austeri più sobri e i vini invece più piaccioni e dopo il vino il vicino Ezio Scida perché sabato prossimo alle 15 Olavao la spacca nel senso che manca un punto per la matematica salvezza del Crotone ci si sta allenando ovviamente con serietà e determinazione e Benali la mezzara Benali è convinta che non ci saranno problemi e che si riuscirà a raggiungere al novantesimo l'obiettivo cioè restare in Serie B ci giochiamo il campionato penso che la squadra sta lavorando alla grande da un paio di mesi insieme ai tifosi la società insieme al Mist speriamo di fare l'ultimo l'ultimo spinto finale e di portare a casa questi tre punti per i tifosi e per noi sì sì è importante il Mist ci ha tenuto tutti insieme di farci allenare alla grande come facciamo sempre queste settimane ma queste settimane non dovrebbe cambiare niente perché stiamo lavorando bene da tanto tempo aspettiamo solo che un stadio pieno che ci dà una grossa mano perché la nostra tifoseria penso che è conosciuta in tutta Italia cambiando cambiando ruolo mi ha dato un po' più libertà di attaccare la porta di mandare i compagni al tiro penso che è una cosa che mi piace però manca l'ultima partita questa partita per noi è tutto veramente penso che se qualcuno avesse detto sei mesi fa che ci giocavi l'ultima partita serviva solo un punto per salvarci te l'avrei preso subito quindi non vi ho messo la firma penso che la squadra come l'ho detto stava lavorando alla grande prepariamo questa settimana bene aspettiamo solo come l'ho detto stadio pieno di andare tutti insieme a vincere questa partita le previsioni del tempo grazie a 3dmeteo.com ben trovati da Nikos di 3dmeteo insieme diamo uno sguardo alla previsione per la giornata di giovedì perché una perturbazione piano piano lascerà le nostre regioni settentrionali al mattino ancora fenomeni sul nord-est regioni centrali e basso adriatico poi entro la serata la tendenza è un miglioramento difatti venerdì troveremo un debole campo di alta pressione un venerdì nel complesso buono sulla nostra penisola andiamo nel dettaglio quindi della previsione per quanto riguarda la nuvolosità al mattino guardate ancora molte nubi su parte della nostra penisola ma da ovest al nord-ovest appunto inizieranno ad avanzare bei rasserenamenti che entro il pomeriggio si estenderanno anche regioni centrali e triveneto un po' di variabilità al sud con qualche risidofenomeno l'ultima grafica ci conferma nella prima parte del giorno ancora piovaschi sulle nostre regioni nord-orientali regioni centrali ma la tendenza piano piano è un miglioramento a partire da ovest dal lato più tirrenico le temperature in aumento proprio sul Piemonte e la Lombardia sfioreremo i 20-22 gradi nel pomeriggio dettagli maggiori come sempre sull'app di tra di meteo grazie abbiamo finito stasera tocca a zona D e poi subito dopo a Talking se volete noi torniamo con l'edizione della notte alle 23-23-15 circa grazie ancora la buona serata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.